. Diretta Roma Juventus oggi in tv e streaming gratis senza abbonamento, ecco dove. Oggi domenica 13 maggio appuntamento da non perdere con la partita di Serie A tra Roma e Juventus in programma alle ore 20.45. . Una di quelle partite da non perdere dato che stasera la Juventus potrebbe festeggiare proprio allo Stadio Olimpico la festa Scudetto di questa edizione. Stasera il big match tra Roma e Juventus, è già festa Scudetto. Un campionato che ancora una volta è stato dominato dalla Juventus, fresca della vittoria della Coppa Italia contro il Milan. Una Juventus che in un primo momento ha dovuto fare i conti con il temutissimo Napoli di Mr Sarri che fino alla fine di questo campionato ha cercato di conquistare i punti necessari per riuscire a strappare lo Scudetto alla Juventus. Peccato, però, che nel corso delle ultime partite il Napoli ha subito una clamorosa battuta dal resto riportando delle sconfitte clamorose in campionato che sono costate caro alla squadra partenopea. Ecco allora che la Juventus stasera si prepara a festeggiare il nuovo Scudetto, anche se la vera festa dovrebbe esserci la prossima settimana, quando si terrà l'ultima giornata di campionato di questa stagione calcistica. Dove vedere Roma-Juventus in diretta tv streaming oggi. Dove si potrà vedere la partita di Serie A tra Roma e Juventus in programma oggi 13 maggio 2018. I tantissimi tifosi bianconeri e quelli giallorossi che desiderano seguire il big match in diretta televisiva dovranno collegarsi alle 20. 45 e circa sui canali a pagamento di Mediaset Premium Calcio ma anche sui canali a pagamento di Sky Sport, che permetteranno la visione live del match. E poi ancora sarà possibile vedere la partita anche in streaming con le app Sky Go e Premium Play. Per coloro che non sono abbonati a Sky e Premium, invece, un modo è quello di poterla seguire sul sito ufficiale Seasal Match Point, il quale permette ai clienti registrati di vedere la partita Roma-Juventus in diretta live, facendo una piccola scommessa sul sito. A questo punto potrete vedere la partita dai vostri telefoni cellulari in maniera quasi gratuita. Un altro modo è quello di attendere la messa in onda della trasmissione la domenica sportiva che dalle 22.45 trasmetterà la sintesi in chiaro. Insomma un match decisamente da non perdere per tutti i tifosi delle due squadre, per la Roma, infatti, questa sarà un'ulteriore prova del 9 dopo un campionato decisamente brillante che ha portato i giallorossi a conquistare nuovamente l'acceso alla Champions League dopo l'ottima performance di quest'anno. La Roma, infatti, è riuscita ad arrivare alla semifinale di Champions, arrivando ad un passo dalla finalissima di Kiev. Riusciranno i giallorossi a rovinare la festa scudetto dei bianconeri e quindi a rimandarla alla prossima settimana? Lo scopriremo seguendo il match live in tv e streaming dalle 20.45 circa.